Nel corso del congresso EULAR sono stati resi noti i contenuti dell'aggiornamento dei point to concealer sull'utilizzo dei farmaci antireumatici con riferimento alla fertilità anche maschile, alla gravidanza e all'allertamento. Abbiamo voluto approfondire l'argomento con la professoressa Angela Tincani che ha contribuito alla loro implementazione. Buongiorno professoressa e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Ecco allora professoressa Tincani molto brevemente quali sono le novità principali che sono emerse rispetto alla versione precedente dei point to consider? La novità di queste, una secondo me delle novità più importanti di questi overarching principle è quella che dice che indipendentemente dal fatto che il paziente stia pensando di diventare madre o padre indipendentemente dal fatto che la signora stia conducendo una gravidanza il paziente deve essere trattato con la filosofia del treat to target cioè deve essere trattato per la sua malattia con farmaci efficaci e dosi efficaci. Questo è un diciamo un mantra che probabilmente tutti quanti dovremmo ricordare quando ci affrontiamo pazienti in età fertile. Allora professoressa cerchiamo di fare qualche esempio ecco che indicazioni ci sono ad esempio relativamente all'impianto dei farmaci biologici durante la gravidanza e soprattutto relativamente al calendario vaccinale per il neonato? Allora naturalmente anche questa è una grande novità di questi di questo ultima versione perché siccome in questi anni è aumentato tantissimo nelle malattie reumatiche l'utilizzo dei farmaci biologici ovviamente è aumentata l'esperienza e con questa è aumentata anche la possibilità di pensare a un trattamento in gravidanza. Direi che ci sono tre principi generali. Il primo è che in generale il farmaco biologico non è un farmaco che porta malformazioni perché è una proteina quindi questo è già un primo step quindi al bisogno quasi tutti se non dir tutti possono essere utilizzati ma quando naturalmente la bilancia rischio beneficio sia a favore del beneficio. Però ci sono altri due considerazioni da fare. La prima è che non tutti i farmaci biologici diciamo raggiungono la circolazione fetale nella stessa maniera. I farmaci che hanno una molecola intera di immunoglobuline sono quelli che passano la placenta in modo più efficace e quindi raggiungono il feto e quindi potenzialmente il feto nasce con un farmaco in presenza di un farmaco che potrebbe alterare in qualche modo in qualche caso lo fa in qualche caso non lo fa il suo sistema immunitario. Di qui la preoccupazione per i vaccini perché ovviamente il neonato viene sottoposto a vaccinazione. Allora in questo senso si possono classificare i farmaci biologici in farmaci che passano bene la placenta e sono le IgG intere cioè le immunoglobuline intere. Farmaci che passano poco la placenta e questi sono le molecole tipo le molecole che non sono un anticorpo intero che non hanno il frammento FC delle immunoglobuline e le molecole che non passano per niente e questo è solo un farmaco che non può passare la placenta perché diciamo è un frammento di immunoglobulina e non ha la possibilità di passare la placenta ed è stato dimostrato con un trial che non passa la placenta. Il terzo punto da tenere in considerazione per i farmaci biologici biologici è l'esperienza di cui disponiamo perché per esempio per gli inibitori del TNF alfa che in realtà i reumatologi hanno cominciato a usare vent'anni fa le esperienze anche in gravidanza sono tali per cui non c'è nessun caveat e questo né in gravidanza né in allattamento nessun caveat importante ehm fatto salvo eh il discorso del del passaggio trasplacentare che abbiamo detto prima. Ci sono però dei farmaci biologici molto nuovi eh non so gli inibitori dell'interluquina diciassette ventitré tutte queste cose che sono farmaci che sì sono biologici e quindi teoricamente non danno problemi particolari tuttavia le esperienze in gravidanza sono poche quindi ci vuole avere una certa cautela nell'utilizzo. Questo è un discorso che va bene sia per la gravidanza che per l'allattamento. Perfetto quindi allora eh diciamo che il il le due fasi quelle della gravidanza e dell'allattamento eh le abbiamo affrontate. Allora che novità ci sono in merito all'impatto dei farmaci antiriomatici sulla salute riproduttiva maschile? Ecco questa è una eh una cosa interessante perché in effetti eh in molte in molte occasioni in cui si parlava di queste cose qualcuno chiedeva ma e gli uomini perché è vero che eh gli uomini sono una percentuale bassa tra i malati reumatici però ci sono e eh finalmente questo eh questa edizione dei point to consider ehm entra nel discorso della fertilità maschile e anche qui eh è molto interessante perché in realtà ci sono pochissimi farmaci e mh tra l'altro non sono farmaci nuovi sono farmaci eh tradizionali come non so la ciclofosfamide eh che non possono che inibiscono in qualche modo la fertilità maschile e per i quali quindi bisogna prendere delle precauzioni ma la stragrande maggioranza dei farmaci antiriomatici che si usano tutti i giorni eh possono essere usati dagli uomini eh non devono essere interrotti quando un uomo decide di diventare padre eh un esempio fra tutti il farmaco diciamo più ehm come dire eh più noto eh eh ai reumatologi il metotrexate veniva sempre sospeso ehm eh quando un uomo un paziente decideva di eh eh procreare e invece viene dato eh come eh relativamente tranquillo o tranquillo eh da eh questa edizione dei point to consider quindi grande eh diciamo sollievo anche per gli uomini eh che eh vedono presa in considerazione eh i loro problemi e eh si vede che i loro problemi sono mh in larga parte non così ehm impattanti diciamo. Ecco allora professoressa eh in conclusione alla luce delle ultime evidenze quanto è sicuro l'impiego dei farmaci antiriomatici con riferimento alla fertilità alla gravidanza e all'allattamento e che precauzioni le bisogna adottare? Ma allora come ho detto ci sono pochissimi farmaci che interferiscono su queste funzioni fisiologiche e di quelli ovviamente ma non sono cambiati sono gli stessi che c'erano anche in passato e non sono farmaci nuovi per la maggior parte anzi tutti sono farmaci abbastanza eh collaudati in reumatologia dei quali si sapeva eh la teratogenicità o l'interferenza sulla fertilità maschile cose di questo genere e questi non vengono usati per la maggior parte degli altri farmaci ehm diciamo eh di uso comune questi possono essere usati tra l'altro eh nella pubblicazione che eh dovrebbe uscire eh nei prossimi mesi su Annals of Reumatic Disease ci saranno anche diciamo delle tabelle molto chiare che eh dal punto di vista pratico il reumatologo potrà eh stampare attaccarsi in studio o mettere eh da qualche parte in un cassetto per avere la conferma ogni volta che ehm deve prescrivere un farmaco a un a un paziente in età fertile che sia esso maschio o femmina.